Andiamo con la nostra musica. Allora, cosa succede qua? Mi prendo una cannona tampetto? Ok. E la prendo tutta a un petto, regà. Eh. Cosa sta succedendo in questo posto? Qua me sfrantumano. Qua no, però. Devo saltare il momento giusto. Ora, devo saltare adesso. Dai che è una cazzata. Dai che è una cazzata. Ora. Gotta con now. Ah, là non mi tocca. Là non mi tocca. Là non mi tocca a nessuno. Nessuno mi può toccare qua. Nemmeno là nessuno mi può tocca. Vero? Nemmeno lì nessuno mi può toccare. Posso fare un altro passetto più avanti? Ok, ho capito. Ho capito. Devo saltare là davanti. 3 2 1 Ora. 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 Lì non vengo toccato. Lì sono intatto. Lì nessuno mi può toccare. Nessuno mi può toccare. Quella è la mia vita. Quella è la mia vita. Aspetta però. Ora. Mi casca di serci in testa. Ma che è sta cazzata? Qua invece com'è? Questi u. Com'è qua? Questi u. Lì nessuno mi può toccare. Sì ma avete rotto il cazzo. Questi sassi però. Porco dì. Qua casca il pavimento palese. Casca il pavimento. Guardelo. No. Non l'avevo visto. Dove devo andare regà? Non vedo. Devo andare lì vero? No.